Ed eccoci qua con le letture di agosto, credo che farò una prima e una seconda parte, questa è ovviamente la prima perché avendo più tempo per leggere le letture saranno molte in questo agosto Sto recuperando un po' di cose, ne approfitto appunto che ho più tempo per leggere per recuperare un po' di cose che mi sono lasciate indietro Proprio da un recupero partiamo, ovvero Blue Lock, ho letto il volume 11, in realtà il 10 e l'11, ma con l'11 sono finalmente in pari con l'anime Un manga che mi sta piacendo veramente tanto, lo trovo geniale in tantissime cose, un modo diverso finalmente di guardare il calcio E' uno Spocon atipico perché si è fuso completamente il concetto di Squid Game con appunto lo Sport La cosa bella di Blue Lock è che ogni volume comunque non cala di livello e di intensità, ha sempre delle sorprese, ha sempre dei colpi di scena Quindi la cosa che mi sta piacendo di più è che il livello è sempre costante, spero che nei prossimi 11 volumi, 10 volumi mi pare siamo al 21 adesso Questa cosa continui, se vi piace il calcio, questo è un manga che assolutamente dovete leggere, è uno dei più belli comunque dell'ultimo anno Fatevi questo regalo, recuperate Blue Lock A proposito di recuperi, ho letto finalmente il volume 3 e il volume 4 di Bentornato Alice, di mio padre Shuzo Oshimi Che dire, un manga che mi sta piacendo tantissimo come tutti quelli di Oshimi, questo mangaka ha il potere di rendere ogni singolo volume Scorrevole in una maniera esagerata, cioè te lo mangi veramente in un'amene, vorresti leggerne, leggerne a caterve Io vorrei che i manga di Oshimi non finissero mai, purtroppo a una certa finiscono anche loro Lui ha questo dono di rendere le cose talmente veloci, fruibili, con una dinamica, un montaggio anche delle tavole Perfetto, è tutto perfetto, poi i dialoghi sono sempre molto concisi Vedete, non c'è mai un dialogo con tantissime parole, eppure funziona tutto alla grande Lui ha questo potere e ogni sua manga è veramente incredibile E che dire di Bentornato Alice, penso di averne già parlato in qualche video, o unboxing o su Instagram Mi sta piacendo tantissimo come ogni manga di Oshimi parla di sessualità, dei conflitti che nascono dalla sfera sessuale In questo caso abbiamo due amici di infanzia che vanno a scuola insieme, fanno le medie insieme Il nostro protagonista, Yochan, interessa a una ragazza E a questa ragazza però interessa Kei, quindi è il più classico dei triangoli amorosi Peccato che a un certo punto Kei in terza media si trasferisce e quando tornerà alle superiori Non sarà più Kei ma sarà lei, quindi tornerà donna Da lì inizierà un vortice di lossuria con il suo migliore amico Yochan La scoperta del desiderio sessuale, la scoperta del proprio corpo, la scoperta dei propri gusti Se siete amanti del genere Bentornato Alice, come tutte le opere di Oshimi, assolutamente lo dovete recuperare È sempre di Oshimi, ho recuperato un'opera un po' più vecchiotta Ovvero Viaggi astrali, che è in due volumi, Yuta e Nova Leggendo questo manga vi accorgerete come dice Oshimi stesso poi nell'analisi finale Verranno poste le basi per le sue opere successive Qui per la prima volta sentirete insetti di merda Per chi sa, capirà benissimo Anche qui ovviamente si parla di sesso Ma il tema principale è il primo amore Infatti è uno degli argomenti ricorrenti di Oshimi Il primo amore è soprattutto il non riuscire a dimenticare il primo amore Viaggi astrali, viene usata la scusa appunto del viaggio astrale Quindi abbandonare il proprio corpo per viaggiare nell'etere E soddisfare le proprie voglie più assurde Parte più scura delle perversioni sessuali delle persone Quindi è un tema che non è così scontato Perché non è facile trattarlo E lui lo fa sempre in maniera geniale secondo me Faccio vedere qualche disegno Ovviamente la prima cosa che fa un ragazzo Quando scopre di poter viaggiare Al di fuori del suo corpo cos'è Andare a vedere le donnine nude E vabbè questo è Oshimi Però è molto di più fidatevi Poi altro recupero Ed è il manga che forse in assoluto Mi sta piacendo di più Nell'ultimo diciamo anno Ho recuperato il volume 6 E il volume 7 Di Boys Abyss Lo sapete sono un grandissimo fan di questo manga E gli ultimi due volumi Mi hanno veramente sconvolto C'è un bellissimo colpo di scena Nell'ultimo volume Nel volume 7 Un doppio colpo di scena Uno se vogliamo un po' telefonato Per chi lo sta leggendo sicuramente capirà Uno inaspettato Questa volta mi hanno colpito Perché effettivamente non ci avevo pensato O comunque non mi ero così troppo soffermato Ad unire i puntini per capire Appunto questo colpo di scena Io questo manga lo consiglio assolutamente Se vi piacciono le cose Che vi creano inquietudine Se vi piacciono le cose sentimentali Ma un po' all'euforia Un po' alla skins Un po' Non so Alla blue valentine Quindi quelle cose un po' Maledette Sentimentali Ma maledette Sporche Qui troverete tutto questo Tra l'altro i disegni A me ragazzi Mi piacciono in una maniera Assurda Come sapete Non l'avevo detto più di una volta Sono un amante dei disegni Un po' Dove c'è Tanto uso delle ombre Vi assicuro che in questo manga L'uso delle ombre Della penombra Soprattutto È pazzesca Vabbè Questo è un esempio Che qua Ad esempio Questa è una delle mie tavole preferite Una penombra Bellissima Questa inquadratura Attraverso un acquario Perché quella È una coda di un pesce Anche la regia Di questo manga Ecco per dire Questa tavola Brevemente la trama Il nostro protagonista Reiji Vive in un paesino Sperduto In campagna Un giorno Arriva Una Idol Non ancora famosissima Ma comunque L'idol preferita Del nostro protagonista Ne nasce Una Relazione Abbastanza Torbida Improntata Sì Sulla sfera sessuale Ma soprattutto Sul desiderio Di suicidarsi insieme E da lì Poi Ruotano Attorno Diversi personaggi Tutti Disturbati Cioè Veramente Il tema principale È il disturbo L'inquietudine Di vivere Relazioni Non solo Sentimentali Ma anche Parentali Parecchio Disturbate Quindi c'è tutto Un tema Riguardante Il rapporto Madre figlio È veramente Un'opera A tutto tondo Cioè ci sono Diversi temi E sono tutti temi Parecchio forti La parola giusta è Quando finisco di leggere un volume di Boys Abyss Mi sento un po' destabilizzato Ho voglia di Di stare un attimo Sulle mie Pensare Riflettere Perché ti lascia quel qualcosino dentro Quindi Stra 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 Consigliato Altro recupero Questo L'avevo comprato Per Stefania Perché pensavo che Le potesse piacere Ovvero Shadow Vows Avevo comprato i primi tre volumi Così Nel chilling più totale Senza pretese È un po' lento Però Molti mi hanno detto Devi avere pazienza Perché comunque si prende il suo tempo Per spiegare bene le cose Per Dipanare bene la Sceneggiatura Il contesto Il primo volume Mi ha Colpito Nel senso che la storia È particolare E ho detto Ma sai che c'è Sti cazzi Mi leggo anche il Secondo volume Il secondo volume Mi è piaciuto Mi ha messo ancora più curiosità Allora Ho preso Nell'ultimo acquisto Che ho fatto Ho detto Vabbè Sai che c'è Lo prendo tutto E così ho fatto L'ho acquistato tutto Sto leggendo il terzo volume Già il terzo volume Sto facendo un po' fatica A finirlo Perché Sono arrivato a quel punto In cui iniziano a spiegare Tante cose E quindi Devo Devo mettermi di pazienza La storia Di cosa parla Una famiglia di ombre Senza viso Imita Lo stile di vita Degli aristocratici Come vedete Praticamente Questi personaggi Aristocratici Questa famiglia aristocratica È Tutta così Cioè Non hanno un viso No? Perché sono Fatti di Fuligina Le bambole viventi Al loro servizio Hanno il compito Di sopperire Alla mancanza del volto Dei loro padroni Interpretandone Le emozioni Quindi Questa ragazzina Invece di cui Vediamo il volto È una bambola Non sappiamo Come è stata creata Da chi è stata creata Ovviamente In questa casa Ce n'è diverse Anche maschi Anche maschi E praticamente Il loro compito È Accudire Prendersi cura Dei loro padroni Fatti di Fuligina E Rappresentarne Il volto Quindi Idealmente Il volto Poi Della nostra Ragazzina Vi faccio Vi faccio vedere I disegni Non mi fanno impazzire Ma non mi dispiacciono Poi sapete A me Dei disegni Importa relativamente È la storia Che la fa da padrono Però Anche l'occhio Vuole la sua parte E ovviamente Poi Quando ti leggi Una storia Con dei disegni Tipo la Boisebis Che a me Fanno impazzire Il livello di godura È sicuramente Più alto Ancora non ho capito Se mi piace Davvero O se La mia è solo curiosità Di sapere Come va a finire Cioè Voglio sapere Il mistero Che c'è dietro Quindi Le bambole Chi sono Perché sono fatti Di fuligina Chi ha costruito Le bambole Cos'è la casa Eccetera eccetera Quindi andrò avanti Nella lettura E nei prossimi video Vi aggiornerò Se mi sta piacendo Se mi coinvolge E ovviamente Se è una lettura Che vi consiglio Poi A proposito Di letture Diciamo più leggere Ho finalmente recuperato I primi quattro volumi Di A Couple of Kukos Questa Comedi Sentimentale Questo cofanetto Con i primi due volumi Poi sono usciti Già i volumi tre Volume quattro Storia Il nostro protagonista Nagi Ha 16 anni E ha appena scoperto Che è stato scambiato Alla nascita Nella culla Con una ragazza Questa ragazza È Erika Amano Che lui per caso Conoscerà Mentre si sta recando Alla cena Appunto dove i due ragazzi Devono essere presentati Alle rispettive famiglie Lui per caso Lui per caso La incontrerà Nel tragitto Ma ancora non sa Che è lei La ragazza Con cui è stato scambiato La trova Così appollaiata Sulla ringhiera E Ovviamente Penserà Che si sta Che si stia Per suicidare Quindi Lui la salverà E ovviamente salvandola Le toccherà Una boccia E questa è Solo la prima Di tante Situazioni Ambigue Che si verranno a creare In questa storia Che devo dire Nel primo volume Mi ha un po' lasciato interdetto Perché Succedono delle cose Veramente Troppo al limite Cioè Troppo Troppo Assurde Per essere Realiste Ma tutto sommato Dopo averci fatto il callo Mi è iniziato a piacere Poi si viene a creare Non un triangolo Ma bensì Un rettangolo Amoroso Perché Il nostro protagonista Nagi Oltre alla Ragazza con cui viene scambiato Appunto Erika Che tra l'altro Quasi subito Andranno a vivere insieme Per una serie di eventi Che non vi voglio sponerare In realtà È innamorato di Segawa Che è una sua compagna di scuola Con cui ha una sfida Ovvero diventare Il migliore studente Dell'istituto Perché a Segawa Interessano le persone intelligenti Quindi ha detto Che si innamorerà Un ragazzo Più intelligente di lei Ma Nagi Nella sua famiglia Nella famiglia Umino Ha una sorella Sachi Che però Ovviamente Si viene a scoprire Che poi non è la sua sorella di sangue E quindi Da quel momento A Sachi scopriranno gli ormoni E Perché Ovviamente Nagi Non è un Umino Ma è una mano Si creeranno ovviamente Situazioni Assurde Paradossali Però vi dico Non gli avrei dato Un centesimo Ma mi sta divertendo E io Quando Poi si creano I triangoli I quadrati In questo caso Perché sarà un vero quadrato Amoroso Ci sguazzo Se volete Assomiglia un po' A quintessential Quintuplets Cioè a quella dinamica lì C'è un ragazzo Nerd Che va bene a scuola Un secchione Che deve scegliere Tra Nel caso di quintessential Quintuplets Tra cinque sorelle In questo caso Di a couple of cucos Deve scegliere Tra tre ragazze diverse Ultima cosa Perché a couple of cucos Letteralmente Una coppia di cuculi Perché La particolarità Del cuculo È quella di Depositare le uova Nel nido Di altri uccelli E quindi Sono gli altri uccelli Che crescono Il pulcino Del cuculo È un po' L'incipit Dell'opera Perché i nostri due Protagonisti Sono stati Praticamente Cresciuti Nel nido Sbagliato Non nel loro nido Andiamo avanti E passiamo A una prima Nota dolente Ovvero Windbreaker Ho letto Il volume 2 Già il volume 1 Non mi aveva Convinto tantissimo Questo manga È un po' Se vogliamo L'erede Di Tokyo Revengers Perché comunque Il tema è lo stesso Quindi Bande Che si picchiano In maniera allucinante Ma questa volta Tutte le bande Sono rappresentate Da delle scuole Istituti Perché il nostro Protagonista Si trasferisce Al Bofurin Che è una delle scuole Diciamo Dove si picchia di più E lui vuole Diventare Il capo Di questa scuola No Non ci siamo Ma Non perché sia Veramente scadente Cioè Riconosco il fatto Che qualcuno Può piacere Perché Comunque Se ti piace Il genere Dove si picchiano Può fare Il caso tuo Ma non fa Il caso mio Cioè Ho capito Che è proprio Una cosa Che io non voglio Leggere Tokyo Revengers Mi aveva Convinto All'inizio E sono diventato Un suo grande fan Perché aveva Anche l'aspetto Se vogliamo Sovrannaturale Quindi Coniugava Il sovrannaturale Alle botte Ma aveva il pregio Di farti appassionare Subitissimo In qualche modo Ti coinvolgeva Questo Non mi ha convinto Per niente Riconosco che A qualcuno Può piacere Sicuramente Qualcuno La continuerà Ma non io Perché non è il mio genere Non è il mio genere Ho capito che a me Non interessa Vedere dei ragazzini Che si picchiano E quindi Niente Lo droppo Lo vendo Sia il volume 1 Che il volume 2 Se siete interessati Come sempre Scrivetemi Su Instagram Perché Lo do via Altra nota dolente Così le facciamo Tutte e due insieme È lo stesso motivo Di prima Questo forse è più bello Anzi sicuramente più bello The God of High School Volume 3 Questo è un manhwa Quindi coreano Tutto a colori Ovviamente Qua sono un po' più Amareggiato Perché Ho iniziato Vedendo l'anime I primi episodi E ho detto Ma sai che c'è Non male Non mi dispiace Simpatico Divertente Allora ho detto Mi stoppo Mi compro il manhwa Vista che sta uscendo Proprio adesso Volume 1 Mi è piaciuto Perché comunque Da un bell'incipit Anche qui Mi ha preso Perché dietro C'è una storia Un po' sauronaturale Di poteri C'è un mistero C'è un mistero Diciamo dietro Il volume 2 Mi ha fatto cadere I coglioni per terra Mi ha annoiato In una maniera pazzesca Un botto slegato Nel racconto Nella narrazione Non lo so Il volume 3 Ha dato la botta di grazia Perché ho capito Che non mi piace Non mi piace Ancora una volta Non è il mio genere Perché anche qua Si picchiano come i pazzi Qua c'è un torneo Quindi più simile Diciamo torneo Di Di Dragon Ball Non è male Non è male Anche qui riconosco Che a qualcuno Potrà piacere Non è Ancora una volta Il genere di cose Che io voglio leggere C'è qualcosa Che non mi convince Quindi Lo droppo Anche questo lo vendo Volume 1 Volume 2 Volume 3 Se siete interessati Scrivetemi Sul mio Instagram Poi altra lettura Questa volta tratta Da un romanzo Ovvero The Tunnel to Summer The Exit of Goodbyes Ultramarine Titolo lunghissimo Una mattina d'estate Caurotono Liceale Di un paesino Di campagna Sente parlare Di una leggenda metropolitana Stando alla quale Da qualche parte Esiste un tunnel In grado di far ottenere A chi ci entra Qualunque cosa desideri Lo chiamano Tunnel di Urashima O Urashima Il nostro protagonista Ha perso Un po' per colpa Del fato Del destino Ma anche un po' Per colpa sua La sorellina Quindi il suo desiderio È riavere indietro La vita della sorellina Viene a conoscenza Di questa leggenda E quando trova Questo tunnel Ovviamente È spinto Ad entrarsi All'interno Per ottenere Più ti immerge All'interno Più tempo passa Al di fuori Che dire È piacevole Ma si vede Che è tratta Da un romanzo Perché ci sono Secondo me Di problemi di adattamento Perché ci sono Dei dialoghi Che non hanno senso Non lo so Sono strani O è tradotto male O sono adattati male Non lo so C'è qualche dialogo Che non mi convince Appieno Veniamo alle ultime Due letture Che ho fatto In questa prima parte Di agosto Grazie a Jpop Perché me l'hanno Inviato Qualche settimana fa L'estate In cui Icaru È morto Ragazzi Allora Non ho capito Se mi è piaciuto Sono sincero È strano Più che altro Con l'incipit Che ha quest'opera Non so Dove si possa andare A parare È questo Che mi Lascia un attimo Perplesso Perché Allora I disegni Belli Belli Mi piacciono Posso dire Che Mi ha Piacevolmente Colpito Si vede Dal tratto Che è comunque Un'opera A tinte horror Vi leggo La trama Yoshiki e Icaru Vivono in un paesino Ai piedi di un monte Sono cresciuti insieme Anche perché lì Non c'è nessun altro Della loro età Un giorno Yoshiki si accorge Che quello che credeva Icaru È in realtà Qualcos'altro E questa cosa Accade Subito Subito Viene detto Che Icaru È stato Sostituito Da Un'entità Un qualcosa Che viene Dalla foresta Dalla montagna Perché Icaru Qualche mese Prima Si è perso E scomparso All'interno Della montagna E la foresta E quando è tornato Non era più lui Ma era Lui nel corpo Ma dentro C'è questa entità Viene detto subito Per non perdere Il suo amico Però decide Di continuare A stargli accanto Come se nulla Fosse successo Da quel momento Nel paese Cominciano a verificarsi Strani incidenti Sicuramente un'opera Che piacerà A chi piace Il genere Horror Ma vi giuro Che con questo Incipit Non so Come si possa Evolvere la storia Però fa parte Della curiosità Che ho Di continuare A leggerlo L'atmosfera Che crea È particolare Secondo me Di questo Un adattamento Anime Potrebbe essere Tanta roba Per dare un giudizio Devo Leggerne di più Perché ripeto Sono curioso Di capire Come si evolverà Veniamo alla cosa Più bella Che ho letto Nelle ultime settimane Sicuramente la cosa Più bella Che ho letto In agosto Raga Che bomba Io non riesco a dire Nient'altro che Che bomba Don't call it Mystery Mamma mia Bellissimo Era tantissimo Che cercavo Una storia Di questo genere Un giallo Un mystery Appunto Questa è veramente Scritta Di Cristo Signori I dialoghi Di questo manga Sono top Level Top Level Soprattutto la prima parte Di questo manga Diciamo la prima Storia Sembra Una Peace Teatrale È ambientato Tutto In una sola Location E vi giuro Mi ha ricordato Una Peace Teatrale Per Intensità Dei dialoghi Costruzione Dei dialoghi Veramente Sono rimasto A bocca aperta Soddisfatto Al netto Che i disegni Non mi piacciono Ma Sono Molto particolari Riconoscendo il fatto Che non mi piacciono Però mi sono Abituato E A una certa Gli ho trovati Gli ho trovati Quasi funzionali All'opera Perché Che mi sono Concentrato Totalmente Sulla lettura Dei dialoghi Mi sono immerso Un botto Nella storia E mi è piaciuto Tantissimo Sembra ormai Una costante Ma ogni volta Che faccio Un video manga Arriva a polvere A disturbare Perché se li vuole Mangiare tutti Ovviamente C'è anche piume Che sta tentando Di entrare Lo studente universitario Totono Sta tagliando le cipolle Quando la polizia Busa alla sua porta Un agente Li comunica Che lì vicino C'è stato un omicidio E lo porta In commissariato Dove Una Dopo l'altra Li vengono sbattuti In faccia prove Che sembrano Incastrarlo Totono Q1 Però Ha una propensione A risolvere I cosiddetti misteri E con calma E gentilezza Arriverà A capire Anche questo Ripeto I dialoghi I dialoghi Raga Veramente Scritto bene E' una bomba La cosa che poi Mi è colpito E mi è piaciuta E che nella seconda parte Di questo primo volume Diciamo Il secondo caso Non sono riuscito A farmi Una vera e propria teoria Su come possa Andare a finire E quindi Quando Rimango così Appeso A A un mistero Mi hai preso Mi hai preso Perché Cerco sempre Un qualcosa Che mi possa stupire No Che Non sia telefonato Cerco il colpo di scena Spero che Come tanti altri manga Non sia solo Una serie di Casi singoli Che vengono risolti E non c'è una macro storia Che fa da filo conduttore A tutta l'opera Ma anche nel caso Siano solo Casi singoli Ho trovato la scrittura Talmente ben realizzata E strutturata Che Sicuramente Leggerò il volume 2 E poi Vedremo che fare Siamo arrivati alla fine Ovviamente Fatemi sapere qua sotto Il vostro parere Su queste mie letture Sicuramente Arriverà un altro video Verso fine mese O inizio Settembre Quindi Rimanete sintonizzati Perché ho un po' di letture Da recuperare Tra cui Oshinoko Berserk E altra roba Spero di portarvi Poi nella prossima settimana Anche un unboxing E che dire Noi ci vediamo Al prossimo video E un saluto A tutti Ciao Ciao Al prossimo video Grazie a tutti